Ma quale piccolo difetto fa? L'hai montata male? I svedesi, ma qua non si sbaglia, no? Al Teatro Giulanco di San Cesario sono già iniziate le attività di formazione con i corsi di teatro per bambini e ragazzi e si attente alla presentazione dell'Accademia per Adutti a novembre. Ma già si sta parlando del primo spettacolo della stagione. Ben Hur aprirà questo pre-stagione, da qui a Natale avremo tre grandi eventi. Dopodiché la vera stagione inizierà a gennaio, ci saranno spettacoli all'insegna del romanesco quest'anno, quindi che cacciara sti romani, avremo me sposo chi me pare, quindi commedie e farze brillanti, per poi avere la punta di diamante a marzo, per due mesi staremo in scena con Peter Pan e il musical. Quindi decima stagione, decima fatica, però ecco, alla grande anche quest'anno. Hai capito bene, ho detto Cesare. Oh, ancora sta a cuore quello. Andrà in scena infatti dal 27 al 29 ottobre la divertente commedia della compagnia Tre per caso, dal titolo Ben Hur, storia di ordinaria periferia, di Gianni Clementi, con regia di Alvaro Cortoni. L'idea è di questi ragazzi che per motivi diversi si sono ritrovati a mettere su un gruppo, una compagnia e poi hanno cercato una persona che potesse guidarli, che potesse un attimo coordinarne un po' il lavoro. Ho letto il testo, mi è piaciuto e poi abbiamo cominciato un attimo a lavorarci sopra. Quando è stato difficile dover appunto dare loro i cenni per poter poi mettere in scena uno spettacolo del genere? Ma difficoltà, la prima difficoltà la dà sempre il testo. Devi capirlo, devi approfondirlo, devi un attimino anche cercare di crearti tu un'idea. E quindi ho trovato, e sono stato ben felice di trovarla, questa disponibilità in loro. Perché loro il testo lo conoscevano e avevano già visto anche una rielaborazione anche al cinema. Io ho detto, non voglio vedere nulla, fate in modo che voi non l'avete mai visto, partiamo da zero. E abbiamo cominciato. Allora, io sarò Sergio, vivo con mia sorella, ospite di mia sorella. Faccio il centurione al Colosseo per arrotondare, insomma, per guadagnare qualcosa. Purtroppo ho avuto un incidente durante il lavoro quando facevo lo stuntman. E quindi mi sono ridotto, diciamo, a arrangiarmi con questi lavoretti così occasionali che capitano. Andiamo da Luana, presenza femminile, e nello spettacolo sorella del centurione, qui al tuo fianco. Allora, sono Maria, sorella del centurione. Anche io separata, anzi divorziata, lui separato. E niente, io mi arrangio in lavoretti abbastanza fantasiosi. Gli faccio un po' da mamma e un po' da sorella, un po' da supporto e da baglia. E ultimo, ma non per ultimo, il tuo personaggio all'interno dello spettacolo. Sì, il mio personaggio è Milan, estracomunitario di Belorussia. Rompe all'improvviso nella vita di Sergio e di Maria. Milan è consapevole dei suoi mezzi, per cui rischia il tutto per tutto arrivando in Italia. e cerca di farsi strada all'interno della vita di queste due persone. E allora ti sei sbagliato? Questa volta ti sei sbagliato? Certo che mi posso sbagliare, certo, certo. Ma che fai, le ribelle? No, 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 io non ribella, io non ribella. Ma sedia non nazica, guarda, guarda, sedia non nazica, non nazica. Una commedia, divertente, ambientata a Roma, in cui si parla di razzismo e di immigrazione. Temi quanto mai attuali, con ironia e in un modo nuovo e brillante, attraverso le figure dei protagonisti, comiche e mai banali. Allora, ritorniamo a Carlo. Voglio chiederti quanto è attuale questo spettacolo che voi andrete a mettere in scena. Credo che sia attualissimo, tratta appunto di, senza svelare troppe cose, comunque diciamo che parla dell'attuale, quindi della vita di tutti i giorni. Ecco, è una commedia, diciamo subito, è una commedia, però leggermente amara. Tante risate, diceva Carlo, quindi anche motivi di riflessione per il pubblico. Secondo te, come potrà reagire il pubblico? Io mi auguro che attraverso i nostri personaggi, che poi rappresentano quelli che sono gli ultimi, beh, vengano toccate delle corde, ci facciano capire che poi alla fine siamo tutti umani. Credo che l'umanità debba essere poi la principale protagonista del dopo. Non tanto dello spettacolo. Tu nello spettacolo interpreti un cittadino straniero, lo metti in scena. Come vivi la loro sensazione, visto diciamo adesso dall'esterno? Eh, visto dall'esterno, è una situazione molto delicata, perché comunque dietro a certe scelte ci sono delle situazioni drammatiche. A volte, magari per amore della propria famiglia, si è disposti ad abbandonare tutto. Trovarsi comunque ad avere a che fare con persone che poi, in qualche modo, magari si possono pure approfittare, da un punto di vista di essere comunitario non è facile. Cioè, questo è quello che magari mi ha portato a pensare questo personaggio. Benur, una storia di ordinaria periferia, vi aspetta. Allora, vi aspettiamo al Teatro Giulanco a San Cesario il 27, il 28 e il 29 ottobre. Mi raccomando, numerosi. Noi siamo qui. Ma chi ti manda per Zanzara? Da, da, mandare per Zanzara, da! No, dai! Spalmamela tu! Sì, spalmamela tu! Spalmamela tu!